Allora, Colme è un'applicazione che abbiamo imparato a conoscere, ad apprezzare per il comfort che ci garantisce, potendo rispondere al videocitofono di casa anche quando non siamo in casa. Qual è il suo risvolto in ambito sicurezza? Il risvolto in ambito sicurezza, ad esempio, può essere quello in cui è coinvolta una persona terza, ossia, faccio un esempio, la signora anziana, io sono il figlio, la signora anziana riceve delle chiamate, io vedo a ogni chiamata chi è di fronte alla porta, se un'amica o una persona che normalmente visita mia madre o una persona esterna, magari poco raccomandabile, può far sì che io intervenga e quindi sia io a rispondere alla chiamata, evitando quindi o limitando la possibilità di truffe agli anziani o intrusioni indesiderate.